Dal Vangelo di Luca, capitolo 15, dal verso 17 Ma rientrato in sé, disse Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza Ed io qui mi muoio di fame Io mi leverò e me ne andrò a mio padre Gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro te Non sono più degno di essere chiamato tuo figliuolo Trattami come uno dei tuoi servi Egli dunque si levò e venne a suo padre Ma mentre era ancora lontano suo padre lo vide E fu mosso a compassione e corse Egli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò E il figliuolo gli disse padre ho peccato Contro il cielo e contro te Non sono più degno di essere chiamato tuo figliuolo Ma il padre disse ai suoi servi Presto portate qua la veste più bella rivestitelo Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi E menate fuori il vitello ingrassato Ammazzatelo e mangiamo e rallecriamoci Perché questo mio figliuolo era morto Ed è tornato a vita Era perduto ed è stato ritrovato E si misero a fare grande festa Attraverso la potente lampada Della parola di Dio Perché essa è una luce per noi Voglio scendere questa sera nel tuo cuore E voglio che tu scopri insieme a me Quali sono i tuoi desideri I tuoi programmi per il futuro E cosa tu intendi fare Da questo momento in poi C'è un piano nel tuo cuore che vuoi attuare Abbiamo letto di questa parabola Parte di questa parabola raccontata da Gesù Si tratta del secondo genito Di un ricco proprietario Questa è la parabola che Gesù stava raccontando E si tratta del fatto che questo giovane figlio Prima di tutto ha dei desideri Dei progetti Che sono lontani dai desideri del padre Nel quale, nella casa del quale lui si trova Inizialmente noi leggiamo E se leggete questa parabola dall'inizio Che i desideri di questo giovane Sono quelli di acquisire libertà Egli non vuole più stare in casa Non voglia più dipendere da suo padre Egli vuole libertà Egli dice la vita è mia Mi appartiene Perciò voglio fare ciò che voglio E chiede in anticipo la parte dell'eredità Egli non poteva farlo Aveva il desiderio di una libertà Non voleva più dipendere dal padre Egli desiderava felicità O molti oggi non solo desiderano e sognano libertà Ma desiderano felicità E vanno in giro per cercare questa felicità Questo è il desiderio del loro cuore Appacare questo desiderio Comunque, ovunque Bisogna essere felici Bisogna passare la vita nella gioia Quello che ci insegna questo giovane È che inizialmente il suo desiderio Era di avere questa libertà E questa felicità Nell'immediatezza Non voleva aspettare Che il padre invecchiasse e morisse Per poter dare a lui la parte dell'eredità Ma egli disse Dammi ora la parte dei beni che mi tocca Voglio essere libero E voglio essere felice subito Ci troviamo in un mondo nel quale Tutti vogliono ogni cosa Subito, immediatamente La gioia, la felicità Egli non voleva che alcuno ordinasse Ma desiderava ordinare e possedere Il desiderio del potere Egli voleva avere potere Denaro in tasca e potere Quanti giovani oggi Desiderano felicità Desiderano libertà Desiderano indipendenza Desiderano potere E essi chiedono non solo Di svincolarsi dal potere dei genitori E quindi di uscire fuori Ma essi non vogliono sapere di Dio Perché pensano che Dio Li costringa a fare qualcosa Io non voglio un'autorità superiore Io voglio gestire la mia vita Come mi piace Io voglio la libertà No, non mi parlare di queste Leggi, di queste regole Della parola di Dio Voglio fare ciò che voglio Il Signore risponde A queste persone dicendo Cammina pure Dove ti porta il cuore Nelle vie dove ti mena il cuore Segui pure gli sguardi Dei tuoi occhi Ma sappi Che per tutto questo Dio Ti chiamerà in giudizio I desideri di questo giovane Furono immediatamente spenti Dalla realtà Dopo essere stato deluso Dice qui la parola di Dio Dove abbiamo letto insieme Che rientrò in sé Era come fuori di sé Come O in una euforia particolare Ma rientrò in sé E cominciò a desiderare Di ritornare Dal padre Io spero che la parola di Dio Che stai ascoltando questa sera Accenda in te il desiderio Di andare a Dio Forse sei andato dove il tuo cuore Ti ha portato O forse sei andato Alla ricerca di questa libertà Di questa felicità Ma ti sei accorto Che non hai stretto nulla Tra le mani E stasera forse si accenderà In te Se tu lo vuoi Per la parola di Dio Il desiderio Di ritornare al Signore Il giovane in questione Nella parabola raccontata da Gesù Non solo ha dei desideri E formula dei progetti Ma poi ci dice la parola di Dio Che attua i pensieri E il progetto del suo cuore Inizialmente attua il suo progetto Prende ogni cosa Dice nel verso 13 del capitolo 15 Che abbiamo dinanzi Prende ogni cosa E messa ogni cosa insieme Partì per un paese lontano E qui dissipò quei beni Un desiderio Un progetto L'attuazione del progetto Ma poi la grande delusione Non è difficile trovare degli alleati In questi progetti negativi Probabilmente tu hai degli amici intorno a te Che ti spingono Ti sostengono E ti aiutano Nei tuoi desideri loschi O nei tuoi progetti Che sono lontani da Dio Lontani dalla sua volontà Lontani da quello che la sua parola dice Tu addirittura dici Dio non esiste Se anche dovesse esistere Io porterò avanti Il mio programma Perché io faccio ciò che voglio Non è difficile trovare degli alleati Questo giovane troverà degli amici Degli alleati Che lo porteranno Alla rovina Salomone dice la scrittura Si applicò Con tutto il cuore Con tutta la forza Nella sua vita A cercare ogni bene possibile Ed egli dirà Io non ho privato La mia vita Di nessun bene Tutto quello che ho visto E ho desiderato L'ho preso Ma sapete come conclude Il saggio Salomone Alla fine ho scoperto Che tutto È vanità È un correre dietro al vento Ciò che è veramente importante È temere Dio E osservare la sua parola Sì Attuare il progetto Ma dopo aver attuato Questo progetto negativo Il giovane Desidera di ritornare al padre Progetta di ritornare al padre Questo farò Mi leverò E me ne andrò a mio padre Gli dirò Perdonami Perché ho sbagliato Ho peccato Ma dopo averlo desiderato E averlo progettato La parola di Dio ci dice Nel verso 20 Che egli si levò E venne a suo padre Ma mentre era lontano Suo padre lo vide E fu mosso a compassione E gli corse Incontro Se tu desideri Perché sei stato deluso Da tutto e da tutti Sei stato deluso Perfino da te stesso O quei progetti Forse che erano nel tuo cuore Li hai raggiunti Ma quando li hai raggiunti Sei rimasto ingannato E deluso E allora si è cominciato A prendere forma Nel tuo cuore E nella tua mente Un nuovo desiderio Una nuova possibilità Un nuovo programma Quello di andare a Dio Voglio dirti in questo istante Attua questo buon desiderio Del cuore Metti in atto Questo buon piano O questo disegno Del tuo cuore Mettilo in atto Egli venne a suo padre C'è un altro uomo Nella parola di Dio Chiamato Zaccheo Che aveva un desiderio Forte nel cuore Voleva vedere Gesù Questo desiderio Cominciò a formarsi Nel suo cuore Nella sua mente Egli progettò O escogitò Un piano Per andare a incontrare Gesù E poi lo attuò Sapeva che Gesù Doveva passare Per quella strada Salì sopra un albero E diceva Adesso Voglio Vedere Gesù Un altro uomo Che era Cieco Il cieco di Gerico Voleva essere guarito Da Gesù Tutti lo scoraggiavano Ma egli Aveva un desiderio Forte nel cuore Quello che la sua vita Fosse toccata E finalmente liberata Dal figliuolo di Dio Il falegname di Nazareth Gesù Cristo Il Signore Nel progetto E nel desiderio Di vivere una vita Che piace a te stesso Troverai molti alleati Ma nel desiderio E nel progetto Di accostarti A Dio Troverai molti Che ti scoraggeranno Troverai alcuni Che cercheranno Di fermare Questa attuazione Di questo buon programma E la discesa Verso il paese lontano Ritornando al giovane Senz'altro Fu molto più facile Ma ritornare al padre Fu molto più difficile A livello spirituale C'era un conflitto C'era un combattimento Nel suo cuore Tornerò Ma mi accetterà Tornerò Ma troverò accoglienza Tornerò Ma quale sarà il pensiero Di mio padre per me Quale sarà il piano Di Dio per me Mi sembra duro Andare a Dio Io ho sbagliato Ho peccato Dio non mi accetterà Ma io voglio dirti Stasera Se è nato in te Il desiderio Ascoltando la parola Di conoscere Gesù Se hai progettato In qualche modo Di accostarti a Gesù In questo istante Attua questo piano E tu non sarai deluso Ma scoprirai Che non solo Dio ti perdonerà Ma Dio ti rivestirà Della sua grazia Gloria al Signore E non soltanto Fu accolto come figlio Ma fu rivestito Di splendidi vesti E Dio ti stuperà Anche in questo Non soltanto Appena appena Tu sarai perdonato Ma il sangue di Gesù Ti purificherà Da ogni peccato E la grazia di Cristo Ti rivestirà E tu sarai Una nuova creatura In Gesù Dio ti stupirà Perché non soltanto Egli vuole essere Con te E tu sarai con lui Ma addirittura Egli farà una grande festa E questo è troppo Questo è troppo Essere ricevuti da Dio Dopo aver commesso Tanti peccati E tu sai Che sei un peccatore Essere ricevuto da Dio Dopo aver Ignorato la sua volontà La sua parola Il suo piano Per anni Oh certamente È bello Ma poi pensare Che Dio addirittura Mobiliti Il cielo E faccia festa Per noi Permettimi Questo È troppo Ma quando Il giovane Della parabola In questione Ritornerà dal padre Il padre dirà Ammazziamo Il vitello Ingrassiato Facciamo Grande festa Gloria al nome Di Gesù Perché questo figlio Era perduto È stato ritrovato Era morto Ed è tornato in vita La Bibbia dice Che c'è Grande festa Nel cielo Per un solo Peccatore Che si ravvede Qual è il desiderio Del tuo cuore Qual è il tuo piano Stasera Vieni a Gesù E Gesù Ti riceverà Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti